Grandi nessicità, due facce della stessa inquietante medaglia, quella della crisi climatica che sta mostrandosi quest'anno con frequenti eventi estremi, mentre continua la conta dei danni, inoltre po', a seguito dell'ultima pesante grandinata che ha colpito duramente i comuni di Torrazza Costa e Montebello, provocando danni allagamenti anche in zone limitrofe come Casteggio e Codevilla, gli acquedotti rurali della Valle Staffora mostrano già i primi segni di crisi e ASM Voghera da alcuni giorni è costretta ad inviare autobotti d'acqua potabile ai serbatoi di alcune frazioni di Ponte Nizza, Valdinizza e Godiasco-Salice Terme. In alcune di queste frazioni, come Sant'Alberto di Butri o I Poggio Ferrato, ad esempio, il problema della scarsità d'acqua è ormai una costante da alcuni anni, sebbene negli anni scorsi le cisterne rimanevano a secco più in là, tipicamente a luglio o agosto. Una soluzione definitiva al problema potrebbe forse arrivare nei prossimi anni con il collegamento alla nuova dorsale idrica creata sotto alla pista ciclabile Greenway-Voghera-Varsi, a cui sono state da poco collegate proprio Varsi e anche Bagnaria. Nel frattempo, almeno per quest'estate, continueranno i viaggi delle autobotti per rifornire i serbatoi più periferici. I nubi fragidi queste settimane, infatti, non sono serviti a ridurre il deficit idrico, in quanto le precipitazioni sono molto intense e concentrate nell'arco di poco tempo e non riescono ad essere assorbite interamente dalle falde. Una beffa, insomma, se si considera che, d'altro canto, hanno portato danni gravissimi all'agricoltura e non solo, secondo le prime stime dei tecnici nella zona di Torrazza e Montebello. In alcune zone i danni alle colture sfionano il 100%. I comuni stanno pensando di dare la possibilità ad imprese e cittadini di presentare richieste per il risarcimento. Per la zona colpita dalla Grandi nello scorso 28 maggio, fra le valli Verse e Scuropasso, invece, i comuni stanno già raccogliendo le schede da compilare e inoltrare alla regione. Questi dati dovrebbero poi confluire nella richiesta di calamità naturale da inviare al Governo centrale, con la richiesta di deroga al Decreto-Legge 102, che dovrebbe permettere anche alle aziende non assicurate di ottenere rimborsi.